erano i miei erano i nove stamattina erano i nove erano i nove voi non si facciamo male non ci facciamo male ma in teoria no ma in teoria no per cavalleria ma forse giocheresti anche in meglio se non è stato molto stretto se era appena appena lungo come erano le cose non so l'altro è l'altro e stamattina c'era il portiere più giocati fuori registro tutto occhio non ti staccate non ti sbilanciare con i commenti che hai tutto registrato ah porca miseria tutto su youtube basta non dico più niente 8 anche noi giochiamo hai visto ma li metti sul sito? è lontano tutto lontano col donzale col donzale il nostro bestiale guarda la campanata plastica non gliel'hanno fatta non era il donzale non mi sono fatto male non erano il suo vento vuol stare vuol stare anche noi in otto si dai vi l'ha detto quello che ci ha venduto i guanti il portiere è quello mi raccomando bagnati va bene non fa niente ti ci pazzetto ti cazzo te ne vedi? si e cheX in mezzo adesso in mezzo subito bravo bravo ma esageriamo ogni tanto pranzo stedi o no bello bravo portierone bella azione l'avano fatti è stata una bella uscita anche adesso si niente da dire dietro no passala dietro vado a rischiare bravo mi piace il ciclo pantigliato dai filo bravo no porca miseria giragli le scarpe franzo ahahah mettiamo la sinistra a destra così almeno ma io ho fatto questo investimento di 15 euro in foto di una FIE 12 euro 12 euro ci è finito questa con il prezzo sempre con la nuova è stato un forte o anche se non 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 hai fatto bene? Sì, c'è lì Il muro di Matteo 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 Il muro di Matteo